Buon pomeriggio, bentrovati da Moversi in Toscana, in studio Mauro Cettini. Ci sono code in A1, lavori tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. La direzione è quella per Bologna. Lavori anche sulla Firenze-Pisa-Livorno sono segnalati allo svincolo di San Miniato Basso, direzione Firenze. Chiusa una corsia sulla Vistiberina, la E45, siamo prima di Val Savignone e il raccordo Viterbo-Terni. Due eventi a Firenze e possibili ripercussioni sulla viabilità, il concerto dei Radiohead al Parco delle Cascine e la manifestazione Pitti Immagine Uomo alla Fortezza. Per il concerto ricordo che sono state potenziate le linee 1 della Tramgest, prolungamento straordinario del servizio, fino alle 2 di notte con corse supplementari, anche il servizio ATAF è potenziato, fascia oraria 23-2. È tutto per il momento, Moversi in Toscana, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, a più tardi. Grazie a tutti.